Ciao ragazzi, voglio vedere finalmente il Pinocchio di Del Toro, è la prima volta che vedo questo trailer ragazzi, eh Dopo lungo girovagare su questa terra Avevo molto da raccontare Di padri imperfetti E figli imperfetti Della perdita E dell'amore Ho imparato di spiriti antichi che raramente si intromettono negli affari umani Ma qualche volta lo fanno Voglio raccontarvi una storia E' una storia che crederete di conoscere, ma... Non è così Mamma mia bello Una storia Del bambino di legno Dove sono? Sento che non è la prima volta che sei qui Il bambino di legno Con l'anima in prestito Sii suo figlio Riempi i suoi giorni di luce Ti chiameremo Pinocchio Oh, che giornata, che giornata Sembra Sembra che qualcuno forse abbia capito Pinocchio Ma un po', eh Un pochino Allora, trailer alla prima visione è spettacolare L'estetica del film è allucinante Il design dei personaggi è incredibile Ma soprattutto Il design di Geppetto mi piace tantissimo Il design di Pinocchio è perfetto, ragazzi Ma è una cosa allucinante Cioè, è proprio Imperfetto È proprio Pinocchio, cazzo Cioè, è un burattino ricavato da un legno Di scarto, quasi, no? In un certo senso Perché è così effettivamente Quindi è stato ricavato da un ceppo Ed è stato ricavato alla meno peggio E quindi è venuto fuori quella roba lì Ma infatti È una cosa È una cosa incredibile E in più ha l'aspetto di un bambino Ma ha l'aspetto di un bambino Appunto imperfetto Come è lui nello spirito Non solo nelle fattezze Ma anche come lo crea Pinocchio Cioè, la scena della creazione di Pinocchio Forse ricorderà A vedere da queste micro sequenze Che abbiamo nel trailer Forse ricorderà addirittura Il restauro di Woody in Toy Story 2 E speriamo che Assomiglia un po' a quella ASMR A quella scena soddisfacente Un po' non della creazione del restauro In animazione sto parlando Fenix Anche se qualcuno c'era già arrivato in Italia Tanti tanti decenni fa Garrone secondo me ha fatto un buon lavoro Un discreto lavoro assolutamente Però in animazione Con Pinocchio A parte A parte Qualche decennio fa in Italia Nessuno era riuscito più Concenci chiaramente A ridarmi un Pinocchio come si deve Del Toro sembra che abbia fatto Molti compiti a casa Perché Anche il villaggio che si vede Pochissimo La cittadina che vediamo Mentre Pinocchio corre tra le strade È molto italiana Il design di Pinocchio Per me ragazzi È incredibile Con addirittura questo rappetto Che rimane attaccato alla testa Fighissimo Vuoi vedere un attimo È molto sì Sembra quasi Civita di Bagno Reggio Anzi Anfiteatro Guarda bello il cartello Con scritto Anfiteatro Che voi non vedete Che ci avete in mente Tra le palle Però sembra Civita di Bagno Reggio Anzi non mi stupirei Se in qualche intervista Dichiarasse proprio Di essersi ispirato a questo Però Civita di Bagno Reggio Non è in Toscana Non lo so Può essere Appunto chissà Chissà A cosa si è ispirato Guardate queste vie ragazzi Guardate le inferiate A cellette quadrate Come si usava una volta in Italia Ma è fighissimo Questo paesino ragazzi Però con le tegole Perfette Però anche gli infissi Lì sulla sinistra È proprio una roba Sì anche un po' matera Sì È proprio italianissima Anche le rocce Il tufo proprio È proprio Ha fatto un bel lavoro di set Perché questi sono tutti Di set veri ovviamente In cui lui entra Con le telecamere Ragazzi Siamo proprio su un altro livello Vabbè stiamo parlando di Del toro Non del primo arrivato Riesce ad essere cupo Quando c'è da Tirare fuori un po' L'horror Perché Pinocchio Comunque ha le sue tinte horror Secondo me Soprattutto la scena Dell'impiccato La scena in cui viene arrestato Alcune scene Del gatto e la volpe Soprattutto quando Lo beccano da incappucciato Insomma sono scene Horror E poi Illumina tutto Quando c'è bisogno Bravo del toro Perché non si è fatto Trascinare dall'effetto Barton Anche perché il design Dei personaggi Ricorda un po' Barton Ricorda un po' Il vecchio Selick Miente regista Di Nightmare Before Christmas Di Coraline Di James E La Pesca Gigante Insomma quindi Si è riuscito a staccare Un po' Da quel design Ha abbracciato un po' Anche Wes Anderson Secondo me Che è sempre cosa buona e giusta Anche perché ha fatto Due grandi film In stop motion Ovviamente Fantastic Mr. Fox E L'Isola dei Cani Quindi La balena si è vista poco Ho visto un occhietto Mi sembra Eccolo qua Che poi non è la balena ragazzi Ma è il pesce cane Anzi spero che sia un pesce cane Come si deve Che la balena è una roba Disney Mi piace anche la povertà Della stanza di ceppetto La povertà dei mezzi Perché Il Pinocchio della Disney Sbagliava nella ricchezza Nello splendore Nel barocco Quando vediamo le scene Con tutti gli orologi a cucù Bellissima anche lei Che sembra un angelo Infatti ha tutti gli occhi Degli angeli biblici No? Quelli veri Gli arcangeli Quelli più in alto Quelli che rubino Come si chiamano Guardate questa cosa Questa cosa qui è fantastica I Serafini I Serafini Scusate per la pronuncia stupida Serafini Bello anche questo tramonto Sul mare Qui quando evadono forse Dal mostro Vabbè Dal pesce canna Anche Mangiafuoco Sembra molto particolare Bello 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 Oh Sembra fascista quasi No Spero di no Non so cosa cazzo era Scisti C'è scritto Mel caramel Lecca lecca Sipario tagliafuoco Ah che bello Il sipario tagliafuoco Ragazzi sono quelli di amianto Perché come vi avevo spiegato Già con Capped Ai tempi Si rivestiva d'amianto Il telo teatrale Per non fargli prendere fuoco Cioccolata calda E popcorn E quindi c'è scritto Sipario tagliafuoco All'italiano Biterbo c'è scritto sul ponte Beh sarà ambientata a tempi del fascismo Giustamente Grillo mi ricorda i disegni di Ausonia Incredibile Proprio in interni Beh è un film bello 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 Quella foresta lì Tra l'altro sembra la foresta Dove si avventura Jackie Nightmare Before Christmas Ovviamente un pochino di Barton Secondo me c'è qua dentro Eh giustamente Comunque ha dato il via A un film Che ha riportato la stop motion Nel mainstream No Poi l'ha diretto Selick Però è stato oggettivamente Barton ad avviare questa operazione E la Disney Che per paracularsi La marchiò Con il logo Di Touchstone Pictures Perché diceva Che era una storia Un po' troppo inquietante Per marchiarla Col Disney puro Va bene comunque Sembra bellissimo Netflix concedilo anche ai cinema Perché mi arrabbierò molto Mi arrabbierò molto Io spero che sia stato annunciato Anche per i cinema Questo film non si può vedere In televisione Dio Cristo Esce anche al cinema Vero? Io non lo so Solo su Netflix Non si sa ancora Solo su Netflix No raga Questa roba Non si può mandare Non si può non mandare al cinema Raga Io capisco che glielo avete prodotto Io capisco che ci avete messo i soldi E che avete fatto Fa un film in stop motion A Guillermo del Toro Di questo vi sono grato Però Porca puttana Ragazzi Sicuramente il film Che attendo di più Di quest'anno Parte il nuovo Cronenberg Che spero di andare a vedere Prima possibile Mi collego direttamente A questo video Che volevo vedere insieme a voi L'ho visto già due volte Una volta per conto mio Una volta con il Mase Ovvero come muore il cinema in Italia Ha fatto il secondo capitolo Analizzando il film Perché la gente non va più al cinema in Italia In tutto il mondo Ma soprattutto in Italia Questo è interessantissimo Lo so La preattesa Tra questo secondo capitolo E il precedente Di un mese fa Era quella di vedere Se qualche produzione Mi avrebbe contattato Non mi ha contattato nessuno Anzi Le poche produzioni Con cui erano rapporti Sono sparite Magari è una coincidenza Magari è estate Magari sono in vacanza Però Chissà Soprattutto a fronte Di quello che Vedremo adesso Chissà Se è una coincidenza E questo video Si può vedere Anche senza il primo Grazie ai dati Che abbiamo visto Nel precedente capitolo Sappiamo con relativa certezza Che praticamente Più nessuno Vuole vedere i film italiani Al cinema Ora la domanda Che ci dobbiamo porre è Perché Perché come dice spesso il pubblico Il cinema italiano Fa cacare O perché come dicono Quelli che i film li fanno Il pubblico italiano È coglione Quante volte abbiamo sentito Questa frase ragazzi Quante volte L'abbiamo anche pronunciata In questo video Cercherò il più possibile Di ragionare In termini oggettivi Non prima D'avervi fatto Però per me Una doverosa premessa Tra i tanti film Che sono comunque riuscito A vedere in sala A David Asso ti caga in faccia Questo video Tra quelli che più Mi hanno colpito e convinto Ci sono diverse pellicole Proprio di casa nostra E penso a Volevo Nascondermi Di Giorgio Diritti A Miss Marx Di Susanna Nicchiarelli Ai due titoli di Mario Martone Quei ridò io in nostalgia Ai due capitoli Di esterno notte di Bellocchio O Ariaferma Di Leonardo Di Costanzo O persino È stata la mano di Dio Di Sorrentino Autore che Allora io di questa roba Ho visto quasi tutto E vi consiglio anche io Questi film Perché sono ora Forse Ariaferma Non l'ho ancora visto Però tutti gli altri Li ho visti Sono molto belli Sono film veramente belli O bellissimi Quindi mai sentiti Eh Eh Eccedere Però insomma Sono film davvero belli Vedeteli Recuperateli Che sono film Fieri di essere italiani Secondo me Di cui dobbiamo essere fieri Ci tengo quindi a specificarlo Dal mio punto di vista Al cinema italiano Non mancano Lo guardo Ariaferma Il problema è che fanno parte Ormai di una generazione O di vecchi maestri O comunque di una leva Non giovane E non si può pretendere Che una manciata di autori Passatemi il termine Impegnati Possano risollevare Le sorti generali Del botteglino Questo come è E sempre stato ovunque Spetta alle decine Centilaie Di produzioni medie Annue E stiamo sempre lì Madonna Sorrentito Non sopravvalutato Come pochi Allora A John Amazon Quando riuscirai A girare Una cosa come il Divo O a vedere Un'altra cosa Come il Divo Al cinema Ti darò ragione Prima di quella data Mi sa che non ti cao Eh Così a naso Perché Ora Si può non apprezzare Si può non apprezzare Certa Certa roba Che ha fatto Sorrentino Ci mancherebbe Ma ragazzi Ha fatto il Divo Ha fatto il Divo Cioè Solo quello Vale La carriera La carriera di Cento registi italiani Nuovi O vecchi Che provano Tutti l'anno A fare un film Di merda Dai Si Ovvia Ragazzi Il Divo Ma che vogliamo Ma si Ma anche This must be Place Ragazzi Dai Di che parliamo Ma non solo Anche il primo Sorrentino È incredibile Dai L'uomo in più Le conseguenze Dell'amore Oh dai Oh Ora Ti può non piacere Yuff Vabbè Un film imperfetto Anche se la scena di Maradona Vale un botto Secondo me quel film Ti può non piacere La grande bellezza Perché è troppo Barocco Va bene Ma porca puttana Ragazzi Cioè Anche stata la mano Di Dio incredibile Su Andiamo avanti Dai Oh Nessuno può avere La formula precisa E sicura Di come si costruisce Un film di successo Al pari di realizzare Una pellicola Qualitativamente riuscita Ci sono un'infinità Di varianti Che possono compromettere In maniera più o meno Determinante Il risultato finale Diciamo che però Se si persevra Su determinate scelte Infelici Che a più riprese Si sono dimostrate tali Allora c'è qualcosa Che non va Sei recolcio Per cercare di capire Quali potrebbero essere I problemi Di questa benedetta Produzione media italiana Partirò proprio Da un unico titolo Colpirne uno Per colpirne cento Ma pure mille Mi limito proprio All'ultimo mese All'unica uscita Forte commerciale italiana Arrivata nelle sale A giugno Almeno ad inizio mese Ovvero Il giorno più bello È una commedia Che si svolge Grossomodo Nelle 24 ore Di preparazione Svolgimento Di un ricevimento Di matrimonio Visto soprattutto Agli occhi Dell'equip organizzatrice È un cast importante Che conta Tra i protagonisti Due star Come i comici Luca e Paolo È uscito il 9 giugno In 300 sale Una distribuzione Più che buona E al primo weekend Ha incassato 68 mila euro Una cifra che seppure Esce sto video al cinema Non sa che fate più Per renderci conto In quella stessa settimana È uscito anche I Ciuciutsu Kaisen Zero Un anime giapponese È stato distribuito In 215 sale Quindi diverse In meno rispetto al film italiano Eppure è incassato Nei stessi giorni 629 mila euro E allora com'è che I giapponesi lentamente Stanno conquistando tutto il mondo E nessuno se ne sta accorgendo Poi mi piace di Svevo Che ti tira fuori i dati Cioè Sono incontrovertibili Non è che puoi dire Eh no però Secondo il mio gusto Il tuo gusto Te lo metti nel culo Questi sono i dati Ciao Il giorno più bello Ma al pari di quasi tutte Le produzioni italiane Di questi ultimi due anni Non è stato in grado Di attirare la minima attenzione Da parte del pubblico Precisiamo Non è che è il peggior film Mai visto in sala Né tantomeno quello Andato peggio In questo periodo sciagurato E anzi Per dovere di cronaca Devo anche dirvi Che buona fetta Della critica italiana L'ha persino promosso Comunque Ciò non toglie Che dal mio punto di vista Diverse caratteristiche Sei il primo a sponsorizzare il Giappone Comunque Andiamo avanti Questiche che lo rendono Un buon esempio Per l'intera produzione commerciale italiana Intanto alla base È un remake Di una commedia francese Borda Questo il problema? Ma i remake li fanno tutti Pure in Francia Persino da film italiani Il problema si pone Quando in Italia Solo da film francesi Negli ultimi anni Sono stati tratti I decine e decine di remake Pensando anche solo All'ultimo anno e mezzo Ci sono stati Oltre al giorno più bello Una notte da dottore Sette donne e un mistero E corro da te Tutte le visitazioni Di film francesi Perché così tanti? Probabilmente Perché è andata bene Una prima volta Nel 2010 Con Benvenuti al Sud E in Italia Se è una cosa più stagia È un esempio virtuoso Per decine e decine Di film successivi Anche se nessuno di questi Conferma minimamente Il primo esempio positivo Poi è chiaro Che se in 5-10 anni Realizzi 50 Quanto è passare remake Sempre per grosse produzioni Anche solo per statistica Uno ogni 20 Ti andrà discretamente E tanto basterà Per continuare inutilmente Su questa strada Ragioniamo poi In termini produttivi Sul senso del remake Se tale spediente È utilizzato con tale frequenza È di per sé già Un'autoammissione Di incapacità Delle stesse produzioni italiane E di sfiducia Ne riguardi dei propri autori E allora poi Non c'è da sorprendersi Se alla lunga Questa negatività Si riversa anche Sulla percezione del pubblico Aggiungiamoci poi Tutti i remake Che facciamo dalle pellicole Di altri paesi I remake e i sequel Che facciamo degli stessi film italiani E poi tutti questi film Che stiamo producendo Negli ultimi anni Che se non proprio remake Sono comunque Palesemente ispirati A un certo cinema americano Insomma alla fine Non è che siamo In industria cinematografica Noi siamo un jukebox Piccola Questo è sempre stato Secondo me Uno dei problemi più grossi Cioè il fatto che Da 20-30 anni A questa parte Cerchiamo sempre Di inseguire Le tendenze americane Quando dovremmo Cercare di trovare L'indipendenza Nel linguaggio nostro Come era ai tempi Insomma ai tempi d'oro Il cinema italiano Parentesi Per conoscere il budget Speso per un film francese Al pari dei film americani Basta cercare su wikipedia Al contrario I budget dei film italiani Non sono mai Comunicati ufficialmente Ed è praticamente impossibile Conoscerli Così come i cashed di attori Vengono strombazzati pubblicamente Solo quando è un espediente Sì scusate Io ho detto 20-30 anni Perché mi sento sempre Un ventenne Ma sono vecchio Ho 32 anni Agosto Diciamo 40 40 anni ecco Per essere più precisi Di marketing Se serve a fare notizie Il budget in Italia Viene comunicato Altrimenti mai Perché Ecco il film francese Da cui è tratto il giorno più bello Le Sons della Fette In Italia Intitolato Se la vi Ha avuto un budget Poco meno di 15 milioni Cioè Disfattismo però Ma non è disfattismo Vivo Questi sono dati Cioè non è che si può scappare dai dati O ci si può tappare gli occhi Cioè è così Sono dati E basta Ma ora aspetta Ascolta tutta la riflessione Poi nel caso ne parliamo Ci confrontiamo Questi però La maggior parte A parte quando va sul tecnico Sono dati Non ci si può fare niente Cioè più del nostro colossal Fix Out Che ne costate più o meno 12 E allora Come ti viene in mente Di rifare un film Realizzato in un paese Che oggi In termini cinematografici Ti fa il culo Un film che tra l'altro È già uscito in Italia Pochi anni prima E ha incassato Un dignitoso milione E col quale Tu ti stai confrontando Con a disposizione A dire tanto Un terzo del budget Se come abbiamo visto Dai dati del precedente capitolo Le piattaforme Non sembrano essere La causa Della crisi delle sale Si può comunque affermare Con sufficiente sicurezza Che oggi L'utente ha delle pretese diverse Rispetto a qualche anno fa Se decide di uscire di casa E spendere dei soldi Per entrare in un cinema Vuole gli sia riservato Uno spettacolo Che non sia lo stesso Che può vedere Sul divano di casa Ecco io Il giorno più bello Lo sono andato a vedere al cinema E dopo 10 minuti di visione La sensazione era Ma io sto film Lo sarei potuto vedere a casa Anzi Con tutto rispetto dovuto Se io sto film Lo vedevo a casa Dopo 10 minuti L'avrei tolto Cercando di limitare al massimo Quello che è il mio gusto personale La netta sensazione Durante tutta la visione del film È stata quella di guardare Un'opera Per scrittura Messa in scena Recitazione e ambizioni Per lo più televisiva È forse un pregiudizio Che abbiamo Nei confronti del cinema italiano Beh Andando a vedere il cast Tecnico e artistico Del giorno più bello Vediamo che Intanto tra gli attori principali Come detto ci sono Luca e Pa Questa che sta per fare È l'analisi più Inaspettata Di questo video Secondo me Almeno per me Cioè io mi aspettavo Invece è andato Proprio a analizzare Anche il cast I tecnici I mestiranti Che ci hanno lavorato Paolo Che al di là Di una formazione teatrale Si sono poi affermati E hanno preso ritmi E presenza scenica Tipicamente televisiva Poi c'è Valeria Bilello Nata come presentatrice Su MTV Stefano De Martino Ballerino uscito da Amici Poi diventato presentatore TV E Fiammetta Cigonia Conduttrice televisiva Il regista E co-sceneggiatore È Andrea Zalone Esordiente Ultra 50enne Ma con alle spalle Una lunga Importante carriera Andrea Zalone Per chi non sapesse chi è Quello che fa gli sketch Sempre con Crozza È quello che gli scrive Poi i pezzi Insomma il suo autore Di autore televisivo Anche dietro la fotografia Davide Sondelli È all'esordio cinematografico Dopo aver realizzato Fiction Rai Come l'allieva O il commissario Ricciardi E il cinema Dov'è? Attenzione La storia è piena Di autori e attori Che pur passando Per la televisione Poi al cinema Hanno fatto cose gregge Il problema è che Se me fai un cast All'80% televisivo Perché cazzo Poi dovrebbe uscire Fuori un film cinematografico Quante volte vi siete detti Ma in Italia I film sono fatti Sempre con gli stessi attori Il fatto è che In Italia Come nella maggior parte Degli altri paesi Esiste lo star system Per cui se voglio realizzare Un film che ottenga punti Per raggiungere I finanziamenti E gli incentivi statali E regionali E che abbia Una buona distribuzione Ne sale Devo avere per forza Nel cast Una o più star italiane Le quali però Sono molto difficili Da raggiungere E quasi sempre Accettano di leggere Copioni proposti Solo dalle produzioni E distribuzioni Che contano Questo circolo vizioso Fa sì che le produzioni Che ottengono i finanziamenti Siano grossomodo Sempre le stesse E si contano Sulle dita di una o due mani Come detto È più o meno così Dappertutto Però in Italia C'è una grottesca anomalia Io in America Ricopro d'oro E scritturo di Caprio Piuttosto che Pinco Pallino Perché questo mi apre Le porte dei cinema E mi fa entrare la gente In Italia Per restare al film Di cui stiamo parlando Ma non personifichiamo Perché vale per qualsiasi Delle nostre star cinematografiche Io prendo Luca e Paolo Perché mi aprono Le porte dei cinema Ma non mi garantiscono Di far entrare la gente Manco per cazzo Da noi le nostre Non sono star Nel senso che sì Andranno in televisione A pubblicizzare il film Faranno le ospitate Da Fazio Dalla Venier Ma poi dati alla mano Di anni e anni Danno questo verso Tipo lecca culo Non mi garantiscono Di portare la gente in sala Almeno non sufficientemente Più di un Pinco Pallino Qualsiasi Tanto da giustificare Un sistema del genere Ma guarda che è così Pure in Francia Sì ma lì funziona Nel periodo della pandemia Con i cinema in crisi nera Pure in Francia Sono usciti tre film Con protagonista Gilles Lelouch La star forse più importante Del Le Sens de la Fête Goliath Adieu Monsieur Hoffman E Buck North Questo è il dato più assurdo Cioè lui non solo Ti dice questa roba Cioè che Luca e Paolo Non ti portano la gente al cinema Ma ti spiega anche Dati alla mano Che è così cazzo Che non puoi dire nulla Su questo Hanno rispettivamente Cassato all'incirca 6 milioni ciascuno I primi due E 18 il terzo Complessivamente Lelouch Partecipando a questi tre film In periodo di pandemia Ha contribuito a portare Nelle casse di cinema francesi Grosso modo 30 milioni di euro Pronti? Ecco anche Luca e Paolo Sono usciti con tre film Durante il periodo della pandemia Un figlio di nome Erasmus Che vabbè Ha avuto una distribuzione irrisoria Per tutta la vita E il nostro Il giorno più bello Complessivamente Partecipando a questi film Luca e Paolo In periodo di pandemia Hanno contribuito a portare Nelle casse del cinema italiano Un milione Un milione Per qualche spiccio Questo fasullo star system Questa inutile ricerca La celebrità da infilare nel cast Spiega poi Il ricorrere spesso A nomi di fama Esclusivamente Mi ha fatto ridere Questo dato 21 mila euro Un figlio di nome Erasmus Ha incassato 21 mila euro Boh Non lo sa su Inutile ricerca La celebrità da infilare nel cast Spiega poi Il ricorrere spesso A nomi di fama Esclusivamente televisiva Se non addirittura musicale Non c'è poi da sorprendersi Allora se prima Le star italiane Non ti garantivano un incasso E adesso addirittura Si ha l'impressione Che il pubblico Decida proprio Di evitare le pellicole A causa della presenza Di soliti nomi Lo stesso anomalo Star system In Italia È radicato anche Nelle produzioni E riguarda anche I determinati Leggisti e sceneggiatori Coloro i quali Si accaparrono sempre Finanziamenti e incentivi Per budget Anche consistenti Per i nostri standard Sforrano da anni Titoli su titoli Che poi per lo più Fanno incassi magrissimi Scritti e diretti Grosso modo Sempre da quella manciata Di nomi Che sono considerati bravi Bravi perché lavorano In Italia non c'è il me E questa cosa qui La collega È una roba Di cui lui non parla Perché ovviamente Sarebbe andato Leggermente off topic Ovvero I cazzo di film A cartoni animati Ragazzi Tutte le star Tutti i talent Che chiamano Per doppiare i cartoni animati Ma che cazzo servono Io non ho mai fatto Una ricerca del genere Ma la farò Dopo questo video di Svevo Per vedere Quanto spostano Le star I talent Quanto sposta Cazzo Belair Rodriguez Un film d'animazione Perché secondo me Zero Cioè Cosa sposta Le clerk In Buzz E in Lightyear Ecco questo Secondo me Nulla Zero Assoluto Merito per la riuscita virtuosa Perlomeno in termini industriali Tra l'altro Lightyear è andato malissimo Anche in Italia Male È andato malissimo No sei bravo Perché la fai E sei riuscito a farla E più ne fai E più sono costose E più sei considerato bravo E ti danno pure dei premi Negli altri paesi Chi non riesce a intercettare il pubblico E delude le attese di incasso Viene messo da parte Deve ricominciare Con budget più contenuti Anche essendo grandi nomi A volte cadono proprio in disgrazia Ma fatti Rob Forse è un Vabbè ma quello è più per i genitori Capito Rob E loro tentano di acquisire Il pubblico di genitori Che chiaramente Essendo delle famiglie Portano più soldi E quindi cercano i talent Che seguono i genitori Tipo Marlin Ti ricordi lo doppiò Zingaretti Che era All'apice del successo Con Montabano Un sistema fin troppo spietato Soprattutto in America Ma in termini industriali Ha un senso Da noi Color i quali Suffruiscono i grossi Ma lì andava bene Zingaretti Brava attore Per finché poi Incassano un quinto Del budget speso Il giorno dopo Sono già al lavoro Su un film ancora più costoso Però Geppi Cucciari Come dice Ramen Seaweed Il Lego Batman Raga Ma cosa serviva Ma poi si sentiva Strideva Ci entrava una sega Attori che fanno Filotti di flop E che sono già Sul listino produttivo Di altre 4 5 pellicone E di fronte a questa Ecatombe degli incassi Degli ultimi tempi Come giustificano Questo sistema Abbassando le pretese E le aspettative Per cui Raga La scusa Daniele Vabbè magari un Leclerc In Italia qualcuno Ti sposta Ma cosa dici Daniele Ma chi sposta L'ATR Che doppia tipo 3 battute Fa una guardia generica Che compare In una scena Ma chi vuoi che sposti Vado a vedere Leclerc Che doppia 2 battute Tieni i miei 10 euro 80 Ma di cosa Stiamo parlando Di colpo Se si è sempre considerato Il superare Per lo meno I 10 milioni di incasso Come un risultato positivo Per determinati film Ora ci si accontentava Di arrivare agli 8-7 milioni E addirittura Alcune pellicole Venivano salutate Come grandi successi Nonostante fossero Grosse produzioni E avessero toccato I 4-5 milioni di incasso Abbiamo fatto anche Dei seguiti Per fin che hanno toccato Queste cifre E che poi ovviamente Nessuno ha voluto vedere E adesso Che gli incassi Dei film italiani Sono al di sotto Di qualsiasi minimo storico Viene preso come esempio virtuoso Il film che riesce Arrivare ai 3 milioni Ai 2 milioni e mezzo Anche quello che solo Lambisce il milione Ma regà Per quanto ci vogliamo Coglione ancora Perché non restiamo Proprio gli svicetti Poi ovviamente Come già Ragazzi ovviamente Sembra un cifrone Ma un milione Per un film al cinema È pochissimo È di incasso Vi informo perché Sembra una cifra esagerata Ma è una merda Un milione Detto in precedenza Se ti è data l'opportunità Di produrre Scrivere Dirige Interpretare 3-4 film l'anno Ma statisticamente Uno ogni tot Ti andrà un filmio meglio E questo basterà Per farti da curriculum In eterno Dice Ah che sarò vivo Ma tu stai riducendo tutto A mera industria Soldi Incassi Cioè Il cinema è anche Arte Spettacolo Narrazione Intrattenimento Ne vogliamo parlare? Torniamo allora Ai nostri due film Quello originale Francese Pur essendo un tipico Prodotto medio È una commedia Piuttosto sofisticata Non ha una traccia Narrativa Particolarmente marcata E lavora in particolare Sulla brillantezza Dei dialoghi Il tratteggio rapido Ma efficace Di una comunità Di personaggi E sulla precisa Circoscritta Gestione di tempo E luogo Oltre che sulla giustizia Degli interpreti Al pari del puntuale Accompagnamento musicale Il film ha un ritmo Gezzato Irregolare Saltellando Da un personaggio All'altro I quali sono per lo più Tenuti insieme Da quello che potremmo Definire il protagonista Ovvero il principale Dell'azienda Che organizza Il ricevimento Tra l'altro È un monumentale E meraviglioso Jean-Pierre Bacry Purtroppo morto Proprio un anno fa Coerentemente In termini di messa in scena La camera Spesso a spalla Segue i personaggi Negli interni Della villa In quello che è Il caotico Dietro le quinte Del matrimonio Alternandosi A confronti dialettici Più statici Con un lavoro Di riempimento scenografico E di grana fotografica Particolarmente ricco La scena invece Si fa più classica Pacata e frontale Quando si è Nell'ultima parte Al ricevimento Vero e proprio E tutto questo Il film italiano Nulla La camera è fissa Gli attori ci passano Davanti e indietro Per lo più Ci stanno fermi davanti L'accompagnamento musicale È una banalissima Marcetta orchestrale Da matrimonio Tra i personaggi Non ce n'è Uno vero Che fa da collante Ciascuno ha il suo Spazietto di gloria Un po' a caso La fotografia Al pari della scarna scenografia È uno standard televisivo Tanto che Per non rischiare Il film italiano È per più di tre quarti Illuminato a giorno Al contrario del francese Che è esattamente Metà di giorno Proprio nell'oscurità Ancora Vedendo Scene qua nel buio Vero Invece Non si sa perché In Italia si ha paura Del buio Non si sa perché Oddio Il pubblico Ma che cazzo Allora si illumina tutto Quello che non dice Svevo È che Vabbè In realtà dice parzialmente Ovvero Che è fatto per un pubblico Televisivo È vero Ma è lì che secondo me Si guadagna Cioè vendendo La riproduzione del film Ripetutamente In televisione Secondo me è quello Fa il film Non tanto per il cinema Il cinema è sospiccioli Poi vediamo In televisione come va a finire Il film più che altro per la televisione Perché si pensa già al dopo Perché si sa Tanto che non si faranno Gli incassoni al cinema Tremendo secondo me Il francese Si ha un resoconto Estremamente accurato E credibile Dell'attività professionale Che racconta È evidente che sia stato fatto Un lavoro di ricerca E di riproposizione Ora ti rispondo Rob Quella che è la preparazione Di un ricevimento di matrimonio Nel film italiano Tutto questo Però Rob Allora Ti rispondo Sono d'accordo con lui Ma credo che il pubblico generalista Non noti Non senta la mancanza Di tutte queste cose Andrebbe educato Ma oggi cercano tutti i prodotti casciaroni Con effetti visivi Che visti sulla tv di casa Non rende mica È vero Rob Però allo stesso tempo Secondo me Si tende un po' A sottovalutare la cosa Capisco sottovalutare il pubblico Di mezza età O anche gli anziani Perché chiaramente Siamo giovani E pensiamo che le generazioni Successive alle nostre Si sia un po' arenata No? Si siano un po' Si siano invecchiate proprio Che non capiscano più La differenza tra una cosa fatta bene E una cosa fatta male Ma io non ci credo tanto Sai a questa roba Ok che va educato E sono stato io Il primo più volte A dire che il gusto Va educato in qualche maniera No? Devi portare il pubblico Piano piano A capire cos'è bello E cos'è brutto Ma quando Mipa Va a vedere Django Cazzo lo capisce Che sta guardando qualcosa Di diverso Rimane un po' Quando l'ho portato a vedere Si alza il vento Che è un film molto complesso È un film lungo Con tempi molto dilatati Spesso Il tema non è dei più semplici Si parla molto di abiazione Di progettistica Insomma non è un film proprio facile Mimà Quando Alla scena finale Mi sono girato E stava Morendo In lacrime E io quando portai Mimà A settembre in Giappone Me lo ricordo ancora Non mi ricordo niente Però queste robe Mi rimarranno per sempre Me le porterò fino alla morte Si stava salendo L'isola di Enoshima Per arrivare alla Candle Tower Ci siamo fermati A vedere il panorama E con i ragazzi Che mi accompagnavano Anzi io accompagnavo i ragazzi Siamo finiti a parlare Di Miyazaki Di Si alza il vento No? Siamo partiti a ping pong Enoshima Si è ambientato lì E bla 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 E poi siamo arrivati a Miyazaki A un certo punto Mimà A riparlare della scena finale Di Si alza il vento Si è riemozionata E mi ma Cioè Guardava il loop Top Gun e la mummia Cioè la mummia Quella con Brandon Fraser Quelli per lei Sono i film della vita No? Top Gun e la mummia A diritto così Indiana Jones Un pochino Che per carità Sono bei film Ma guarda solo Ma lo capisce Che c'è qualcosa di diverso Capito? Film da ridere Esatto Ma come cazzo ho fatto Ricordavi queste stronzate Quindi lo capisce Quando li ho portati A vedere anche altri film Quando li ho portati Ora domani Li porto a vedere Porco Rosso Io sono convinto Che rimarranno Estasiati Perché Lo sai Anche se non sei erudito Oh raga Rob Pensa Che la gente Faceva in cassa Fellini Antonioni Vesta gente Vì Rossellini Cioè la gente Andava a vedere Mastroianni e sordi Ma vedeva dei film Perché erano belli Se ne accorgevano Certo che prima Era abituati meglio Ma io sono convinto Che se gli fai vedere Un film bello Secondo me Lo capiscono Magari ci vuole Un po' di più Magari ci vuole Un po' di più Per spostare Il pubblico generalista Tutto Intendo Però secondo me Se ne accorgono Lo sottovalutiamo troppo E lo sottovalutano Anche i produttori Si perde La sensazione Che ci si sia informati In merito a tutto ciò Semplicemente guardando Il film francese originale Ma super Aspetta Ma pensi che questa sensibilità Ce l'abbia o interesse A avere alle masse Voglio dire Ti capisco Che mia madre No Rob Io non ti dico Allora Io non ti dico Che la mia mamma O la tua mamma O i nostri zii Si mettano lì a dire Eh cazzo Voglio sviluppare La mia coscienza cinematografica No ti dico questo Perché questa è un'utopia Questa è una roba riservata A una nicchia Ma è sempre stato così Però io ti dico Che se porti Mi madre A vedere un film O tu madre A vedere un film Bello Quando esce dal cinema Se lo ricorda E se lo ricorderà sempre Quando mia madre E mio padre Hanno visto Dogman Che l'hanno visto Senza dirmi niente E poi Lo scorso mese Mi hanno detto Ah sai se hai visto Dogman Cazzo Mamma Micchia Dogman Film abbastanza peso Garrone Un garrone In stato di grazia La scena Quando prende lui E arriva al paese Insomma nel quartiere Il film Insomma Ti è piaciuto Eh sì Poi La scena quando È in gabbia Lui Incredibile Cioè me ne parlavano Con un trasporto E con un entusiasmo Allucinato Poi ne vogliono di più Capito Ne vogliono di più Perché vogliono qualcosa Di bello Il bello Tira il bello Vuoi una cosa Vuoi emozionarti Senti che questo film Ti ha dato qualcosa Ti ha emozionato Non sai bene perché Non ti sai spiegare Perché sei ignorante No Comunque non ti vuoi informare Però sai che quel film Ti ha dato qualcosa Lo percepisci Quando te vedi Il canaro Che arriva Con Lo sappiamo chi Nella piazzetta Magari non sai Che è per quella Carrellata Per quella fotografia Per quel tramonto Per la sua solitudine Che è western Moderno Non le fai Tutte queste analisi Non fai tutti Sti pipponi Però c'è qualcosa Che ti tocca Involontariamente Come c'erano Certe scene Che toccavano I nostri nonni Quando vedevano Che cazzo Sto via col vento E ne vogliono di più Io quando leggevo Dragon Ball Da ragazzino Non avevo letto niente Ho letto solo quello Però mi dava qualcosa Quando ho letto Per la prima volta Sean June Gumi Io non mi facevo Tanti pipponi O One Piece Prendiamo One Piece Che è la cosa più popolare Di tutte Io non mi facevo Tanti pipponi Però quando c'era Nico Robin Che urlava in faccia La sciurma Voglio vivere Cazzo ma Cos'è questa roba Cos'è questa emozione Sono come quelle emozioni Involontari che hai da bimbo Quando ti emozioni Per gli scambi Davanti al Game Boy Non sai Perché ti arrivano Quelle emozioni Ma ti arrivano Perché sei umano Quindi sottovalutare Le emozioni altrui È una cazzata Perché lì il pubblico È pronta per le emozioni Anche se c'hanno i problemi I cazzi I debiti I problemi a casa La moglie Le corna Comunque Quando vedono qualcosa di bello Lo sentono Io sono convinto Che se li metti davanti A un Pollock Che per la maggior parte La gente Eh cosa ci vuole Basta far due schizzi Su una tela Io sono convinto Che quando si trovano Davanti a un Pollock Si emozionano Ignoranti Cultori dell'arte Amatori Li metti davanti A un Pollock E si trovano Di fronte Anche a un Burri E si trovano di fronte A questa immensità A questa roba Qualcosa Sentono Perché il bello È universale Cazzo E anche quando a Mimà Che non ha Ha giocato solo A Puzzle Bubble In vita sua Gli ho fatto vedere Capped Gli ho fatto vedere Salieri Cioè Otario ma Cos'è questa roba qua Cioè Era Come un bambino Che scopre il mare Per la prima volta C'era qualcosa Non sono ottimista Eh Saita Ma per niente Io sono disfattista In questo periodo Da questo Per quanto riguarda L'arte in Italia Disfattista totalmente Sono ottimista Per quanto riguarda Il pubblico Cioè Non è che sono ottimista Sono Credo ancora nell'uomo In qualche maniera No Nell'uomo medio Nell'uomo normale Ci credo un pochetto A volte mi fa incazzare Ce li dico tutti i giorni Con l'uomo medio Però che non capisce A volte non comprende Però secondo me È pronto a qualcosa È pronto a una rivoluzione È pronto a un passo in più Il problema è che non c'è nessuno Che glielo fa fare È un po' il discorso Della differenziata E noi possiamo fare La differenziata Quanto vuoi Ma finché non c'è Qualcuno a monte Che decide di reinventare Totalmente l'industria Per eliminare la plastica La plastica non andrà mai più via Puoi fare tutta la differenziata E ti pare Idem per le emissioni Te puoi comprare tutte le macchine E ti pare Puoi prendere la Tesla Puoi fare il figo Con un'ibrida Ma finché Non si investe seriamente In altri carburanti Non cambierà mai il mondo Finché la Cina L'India L'America Non smettono Categoricamente Di fare quello che fanno E non reinventano Non cambierà mai nulla Quindi io sono fiducioso Ho fatto una parentesi Che è veramente Andata verso gli Emirati Andata verso la merda Però Non importa Quello che dico io È che I produttori Tornando a noi I produttori Devono smetterla E lo fanno da 30 anni Devono smetterla Di sottovalutare il pubblico Perché il pubblico È pronto E quando si trova Qualcosa di bello Toccante Costruita ad hoc Con il montaggio La musica La regia La fotografia Lo sente Esperto o non esperto In termini di scrittura Come hai detto Il film francese Lavora per accenni Tanti piccoli accenni Sui personaggi Sua situazione Le difficoltà Che si creano Trovando sempre Un nuovo slancio Con piccole Sovrapposte Vero treno Svevo Tutto questo rende La realtà raccontata Nel film A pari dei personaggi E delle relazioni Tra di loro Tangibile Credibile Le cose Le cose succedono E accadono Sotto i nostri occhi Così come accadono In realtà Nel giorno più bello Invece Come la nostra grande Maggioranza Delle produzioni italiane Le cose accadono Come accadono In televisione No Luca Non ho parlato Mile fiction Succedono per scaglioni Di scene Pesantemente scritte E riconoscibili Per situazioni Che servono a dare Apparente sostanza I personaggi Non accadono cose Sotto i nostri occhi Che coinvolgono i protagonisti Il brutto E soggettivo E il bello universale No no Non ho mai detto Questa cosa Cante Al pari per me sono Quindi Però non voglio Ritornare Un'altra volta Una parentesi Oggettivo E soggettivo L'ho fatto mille volte Questo discorso Ho le mie idee Voi magari avete le vostre Qualcuno concorda con me Non mi interessa Però non voglio Aprire questa parentesi È un discorso lungo Ho fatto mille volte Il live L'ho fatto anche con Sgambi Quindi basta Basta così No La narrazione si ferma E di colpo spesso Una coppia di personaggi Si confronta E da questo confronto Deve uscire fuori Una risoluzione Perché in Italia Si pensa che i personaggi Hanno senso Solo se hanno Un evidente Sottolineato contrasto Un conflitto Un obiettivo Una difficoltà Una svolta E una catarsi finale Con espedienti Che hanno anche L'imperdonabile torto Di rendere i film E ancor più Le commedie Inutilmente pedanti Retoriche E moralistiche E allo stesso modo Si sente il bisogno Di sottolineare In maniera vistosa John Amazon Oddio santo Poi la supponenza totale Quando io non ne ho avuta Mezza Vabbè Diciamo che da uno Così dentro all'arte Sentir dire Che non è soggettivo Vuol dire Che non hai capito Nulla di quello Che hai intorno Ma nemmeno Di quelli Che hai studiato E della storia Nemmeno di quelli Vabbè Il bello è oggettivo L'arte no Ok Un po' un paradosso Secondo me Comunque ci sono Tantissimi artisti E maestri d'arte E critici d'arte Che ancora Si domandano Se il bello È oggettivo O soggettivo C'è una diatriba Tra gli artisti Tra i professori Tra i critici d'arte Che va avanti Da anni e anni E qualcuno Non ha ancora la risposta Quindi avere la supponenza Te con un commento Su Twitch Di dire Cosa è giusto E cosa è sbagliato Nell'arte A me mi sa di cazzata Anche Sgarbi Aveva la sua idea Ma quando ho intervistato Il mio professore Di educazione visiva Che ha studiato Secondo me Più di me E di te Messi insieme Non aveva una risposta Certa Aveva la sua idea Ma non aveva una risposta Certa Perché Poi l'arte cambia Secondo i periodi Quindi In un periodo C'erano dei canoni Si rispettavano quei canoni E se si rispettavano quei canoni L'opera veniva considerata bella Poi c'è stato il novecento Che ha cambiato tutto Però Non c'è una risposta vera ancora Io ho le mie idee Tu hai le tue Però stai calmo Va tutto benissimo Non succede niente Perché tanto ci piacciono Le cose belle Allo stesso modo Stai tranquillo In questo periodo Dovremmo essere più coesi Anche su queste cose Sull'arte Su ciò che è bello Su ciò che potrebbe Emozionare il pubblico O criticare O visualizzare Fotografare La realtà che ci sta intorno Cercare il conflitto Anche in una roba del genere O piangere Perché critico One Piece su Twitter Non ha molto senso Cerchiamo di trovare Una piccola cosa mia Cerchiamo di trovare qualcosa Che effettivamente Fotografi la realtà Perché l'arte Cioè L'arte non è sempre servita a quello Ma Nel novecento soprattutto È servita a quello E servirebbe a quello l'arte Fotografare la realtà Criticarla Denunciarla Spostare l'opinione pubblica E invece non si fa più Il film adesso è una Fotografia di una realtà Che non esiste Anche pallida Quindi Cerchiamo di trovare L'unione nel bello Invece sta lì Oggettivo Suggettivo Secondo me A un certo punto Questa roba Crollerà pure su se stessa Io come dico sempre Trovo soggettiva La bellezza di una cosa Per me chiaramente Perché Io trovo bellissimi Pupazzetti di go Ma per voi no Però questo è il mio gusto personale Però oggettivamente Posso riconoscere Che è una passione del cazzo Questo è un po' il punto della roba Però ci sono cose che rimangono belle Indipendentemente da tutte Non ti può piacere la gioconda Ma è bella Oggettivamente Però questa è la mia idea Vabbè basta Dai ragazzi Devo far andare di questa roba Un po' me tarantino Tipo un garbà Tipo un garbà Perché a un certo punto Lo impazzisce E ci mette troppo sangue Però sa come piazzanate le amera Sa come fotografa un film Sa come scrivelo Per me Secondo i canami del cinema Vabbè basta Dai Basta basta Se no rientro Un'altra volta in questa roba E non va bene Banali e forzate tracce narrative Come la volontà del principale Di vendere l'azienda Oh merda Sono le due e un quarto Oddio 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 Vabbè ragazzi Poi vedetevelo Finitevelo di vedere per conto vostro Ve lo linko il video Perché sono andato lungo Con queste riflessioni Scusate Scusate veramente